Il progetto europeo è molto importante, ma non è molto importante. Bisogna ripartire dall'integrazione dei cittadini nel progetto Europa, quindi ridurre la distanza fra elettori e scelte politiche. Ho, sono Danio, sono studente di 21 anni e studeo per l'attività. Sono Chiara Alicandro, ho 31 anni. Mi occupo nella vita di consulenza del lavoro. L'idea condivisa sulla sicurezza dell'Unione Europea è quella di istituire un vero e proprio esercito europeo, dare più strumenti all'Europa per rendere la più sicura. Tuttavia il panel, il mio concetto è stato un gruppo europeo canale. Ogni cittadini ha i loro canali. Ma non c'è un strumento migliore di mass media per riuscire a portare avanti questo obiettivo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.